Benvenuti cari followers, se la bufera di neve è stata ufficialmente confermata, domani, domenica 26 febbraio, sono attese piogge e neve molto intense in tutte le regioni del nord Italia senza eccezioni pioggia e neve molto intense anche in tutte le regioni del centro Italia, oltre a questa pioggia molto intensa sulle coste del mar Tirreno, in relazione alla quota, la neve cade su quote che superano i 400 metri e il limite delle nevicate potrebbe diminuire gradualmente fino a 200 metri, e forse meno localmente, nella tarda notte di domenica, e questo nel caso in cui sia disponibile umidità, perché il raffreddamento sarà ottimo e consentirà la caduta della neve a quote molto basse, per quanto riguarda lo spessore della neve previsto tra 10 e 140 cm e forse più localmente nelle regioni settentrionali e nel main 10 a 100 cm nelle regioni centrali, e la quantità di neve e pioggia diminuirà man mano che ci dirigiamo verso sud. Forti piogge anche in tarda serata in Sicilia e Sardegna, per quanto riguarda la quantità di pioggia prevista, potrebbe superare gli 80 mm, e segnaliamo anche le temperature che saranno molto basse e il tempo molto freddo, parti letteralmente accecanti di una bufera di neve, soprattutto con venti forti e talvolta forti.